Né telegrammi, né telefonate, né lettere, nemmeno messaggi whatsapp per notificare a eventi lavoratori attualmente nel limbo se sono stati licenziati. Dopo mesi di proteste, incontri, rassicurazioni alternate a fasi di silenzio, la situazione sembra essere delle meno positive, soprattutto per loro venti che stamani sono tornati in sit-in davanti alla prefettura in Viale Regina Margherita. Oggi c'è rassegnazione e delusione di una sigla sindacale che è la CISL, con me coordinatore e con la segretaria Fronana Russo della CISL FP, che gridavamo a una parità di trattamento per tutti i lavoratori perché c'è una clausola sociale, gridavamo che noi eravamo disposti a qualsiasi tipo di trattativa, invece ci sono tutto il groppone della CISL, compresa il sottoscritto che è rimasta fuori perché casualmente diceva di fare le cose, di trovare una mediazione non a favore dei lavoratori, ma non si accodava a quello che diceva l'azienda sul tavolo dell'ufficio del lavoro. L'azienda continua a dire le 24 ore in tutti i giornali, ma sono le 24 ore con la banca ore, significa che se voi fate conti sempre 19-20 sono. Noi volevamo le 24 ore, quello che dite voi nei giornali, con il contratto congelato, 36-38 ore, addirittura lasciavamo perdere pure gli ammortizzatori sociali, che invece ci facevano molto comodo, ma l'azienda non ne ha, per amore di mantenere il nostro posto di lavoro. Però, però, casualmente, loro giravano e rigiravano che le 24 ore non erano 24 ore, tutto fatto quando l'ufficio del lavoro, ma alla fine erano 19 più ti chiamo senza nessuna reperibilità, quindi lo dovevamo firmare, o al cimenti le 22 ore, che loro arrivavano a 22, con il vincolo della malattia, cioè i primi tre giorni te li pago per la prima volta, poi non te li pagherò mai più. E' brutto denunciare queste cose, infatti non abbiamo avuto nemmeno un tavolo prefettizio, però stiamo tutti fuori a pagare le colpe di aver detto le cose legali, perché non si poteva firmare, infatti dovevamo firmare in un secondo tavolo. Ci sono 19-20 persone fuori, compreso io che sono il coordinatore provinciale, dove non è stata fatta nessuna gradatoria, dove ci sono carichi familiari e stiamo tutti fuori, e dove ci sono le persone che non hanno carichi familiari di altre sigle sindacali che sono all'interno. Altra situazione poco chiara, sottolineano, riguarda le assunzioni, dove, raccontano ancora, il personale della S-Quadro è stato assunto a 36 ore, mentre a 24 ore quelli della San Filippo Neri, individuando peraltro solo da quest'ultima cooperativa il personale da licenziare, pur svolgendo le stesse mansioni. Loro vogliono sapere, vogliono conoscere i criteri, se esiste una graduatoria che ha motivato questi provvedimenti, e per questo tornano in protesta. Stamattina i due RSA presenti, Francesco Iacona e Massimiliano Debole, sono stati accolti inoltre dal prefetto per essere ascoltati.